Ehi ragazzi, ciao a tutti i treni che bentornati qua su minecraft Ragazzi vi ringrazio come sempre per i consigli che lasciate Nello scorso gameplay vi avevo alla fine chiesto un qualche consiglio Vi avevo chiesto cosa possiamo mettere in questa zona qui In questo piccolo spazietto che abbiamo qui Mi è piaciuto un commento da parte di uno di voi E ve lo leggo, anzi ve lo faccio anche comparire Ringrazio Simon Bacci per questo consiglio Praticamente mi ha chiesto di costruire un labirinto Secondo me effettivamente il labirinto ci sta veramente bene Perché aggiunge un po' di verde Perché lo faccio con le siepi E perché poi ovviamente è piccolo, è basso e ci sta veramente bene Ringrazio anche Simon per avermi insomma Per avermi fatti i complimenti per lo scorso gameplay Mi ha detto praticamente bel video, grazie Allora ragazzi quindi qui ci viene un labirinto Cosa mi serve? Ho bisogno di tre materiali principalmente Ho bisogno di mattoni di pietra, terra e siepi Allora le siepi utilizziamo naturalmente le foglie di betulla I mattoni li facciamo e la terra la raccogliamo Allora stavo già pulendo qui la zona Perché ovviamente qui ci mettiamo la base del labirinto Che è composta appunto da mattoni e terra Sapete cosa stavo pensando? Oltretutto il punto di spawn si trova proprio qui all'incirca no? Quindi praticamente chi entra in partita la prima volta si ritrova al centro del labirinto Ma cerca l'uscita poi no? Allora adesso devo trovare il centro Devo trovare il centro del labirinto Lo devo marcare il centro Allora innanzitutto quanto spazio voglio lasciare qua? Sempre quattro Forse sì mi conviene lasciare quattro di spazio E allora diciamo che questo è il bordo del labirinto Voglio fare sette blocchi Allora facciamo una cosa Iniziamo a piazzare questi blocchi Così a caso per ora fino a qua Ok allora praticamente Dunque Facciamo in questo modo Qui ci viene la fontana La fontana la facciamo con i blocchi bianchi Allora dunque ragazzi Quindi una volta che ho capito che questo è il centro E il centro totale ragazzi Praticamente è composto da Uno Due Ehm Ok Facciamo la fontana Il centro qual è la Potrei fare questo? Sì questo è il centro Questo è proprio il centro Vediamo Questo è il centro Naturalmente togliamo sto schifo Anche se con la lava non si vede Però A me piace fare tutto per bene Poi Facciamo alto fino a qua O potrei farlo anche più alto Tanto alla fine più è alto più è bello No più si vede Bello alto Ok una fontana alta di lava Speriamo che non mi cada addosso Ok Va bene Una fontana di lava Ora che abbiamo la fontana Ho capito praticamente Qual è insomma il centro Quindi giriamo attorno alla fontana Giriamo tutto attorno alla fontana in questo modo Ecco Perfetto Poi tutto a girare Allora un attimo La terra Fino a qua Perché questa è l'entrata Questo è l'arrivo dentro al labirinto Questo Quindi tutto a girare mettiamo terra Tutto a girare mettiamo terra Vediamo un po' A questo punto Devo contare fino a 7 1 2 3 4 5 6 Quindi devo buttar giù come minimo Un po' di roba qua Almeno fino a qua devo rimuovere Quindi adesso datemi un attimo di tempo Che rimuovo Tutta questa sabbia Allora raga Ho allargato già un po' Vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 Perché ovviamente qui ci viene il muretto Poi 1 2 3 4 5 Altri 3 blocchi Devo rimuovere Ok Ci siamo raga Adesso almeno so che questa è la zona del labirinto 1 2 3 4 5 6 7 8 Perfetto Devo rimuovere giusto sti due qua Bene ragazzi una breve dormita E riprendiamo con la creazione Già che ci sto sapete cosa? Una bella tappatina qua gliela diamo Così non si vedono più sti brutti buchi Ecco Niente male no? Così non c'è più quei buchi maledetti Non ci stanno più Sto sbagliando Sto sbagliando Sto sbagliando perché All'esterno mi conviene mettere sempre la siepe Non è bello vedere questo No no Sto sbagliando E' vero Ok Poi tutto a girare ci mettiamo Poi tutto a girare ci mettiamo Le ho lasciate qua Le ho lasciate qua Ok prendiamo queste Praticamente noi facciamo adesso in questo modo Ovviamente devo farlo da due Però per ora Lo facciamo alto uno Così posso saltare in giro per ora Nel labirinto posso saltare in giro Quindi per il momento Delimitiamo giusto la zona Delimitiamo giusto la zona Ok Fatto Bene almeno sappiamo che questo è la parte esterna del labirinto Naturalmente anche qua Vabbè Devo fare sempre da Da due Ma per ora facciamo alto uno Così posso andare in giro Ma sai che qua mi conviene un po' alzarlo E' un po' pericoloso visto così Decisamente pericoloso Visto così E' troppo pericoloso Ah Oh diamine Uno me ne manca Beh comunque praticamente Non voglio finirci dentro va Non voglio finirci dentro Quindi è giusto chiudere Poi chiudiamo con un altro blocco Allora Ok Bene Sappiamo quindi che questo è l'arrivo Lì c'è la partenza Adesso qui dobbiamo creare il labirinto E ovviamente questa è la parte più complicata di tutto Fatto sta che però Il labirinto praticamente Arriviamo al centro facendo tutto il giro Ovviamente se arriva uno non lo sa Uno che arriva non è che sa che il percorso giusto va a fare il giro Quindi andiamo Cerchiamo noi di ingannare le persone Quindi ingannare le persone Significa magari tipo che crea un percorso che va per di qua Magari poi se ne va per di qua Per di qua Per di qua Insomma dobbiamo un pochettino Ingannare l'occhio Quindi tipo arrivi fino a qua Poi fino a qua però ci resti fregato E invece il percorso giusto Per dire gira per così Insomma si va un po' a caso Ok E già è qualcosa Già questo è qualcosa Quindi fino a qua Magari tipo il percorso giusto va per di qua Mentre questo è un altro percorso Ingannevole Tipo posso creare Un percorso che va per di qua Così Insomma riusciamo a ingannare le persone Senza problemi volendo Praticamente Sto a fare tutto a caso ovviamente Perché non è che è tanto semplice Creare Un labirinto Non è per niente semplice Va bene quindi lui arriva diciamo Fino a qua E qua finisce e si chiude Quindi il percorso vero Allora qua c'è il percorso finto E il percorso vero Ah stava a fa buio eh Un attimo Ovviamente non è semplice Però dai Ce la stiamo a fare Ok quindi stava a dire Il percorso giusto è qua E quindi deve passare Da dove passa Perché questo è finto Quindi passi per di qua Quindi questo lo tolgo Facciamo un inganno Arriva qui e poi chiude Arriva qua e chiude E il percorso giusto Invece passa per di qua Così Così E inganniamo Ok Arrivato qua Creiamo altri Due percorsi No però così non mi piace Meglio se Se mi butto un po' più in qua Così sfrutto questa parete Allora a questo punto Il percorso giusto Tipo è questo E questo è invece Un altro percorso Ingannevole Quindi Diciamo che va per di qua Questo va così Questo è quindi Un percorso Ingannevole Allora vado a prendere Altri blocchi Vabbè alla fine a me Mi basta praticamente Mettere tutta la siepe Ed è fatta Devo solo fare questo Quindi ho messo Un bel po' di blocchi A cucinare Vediamo un po' Eccoli Eccoli Quindi ragazzi Che stavo a dire Il percorso giusto È questo qua Ok Però ovviamente Anche lui Deve un pochettino Ingannare Quindi tipo Arrivi qua E qui finisce Quindi il percorso giusto Qual è che ho detto È questo Questo è Ok Quindi passi per di qua Mentre questo Continua Con l'inganno Va avanti Aspetta però Vabbè fino a lì Diciamo dai Diciamo fino a qua Poi la parte giusta Va per di qua E di qua Invece Si va Verso una parte Sbagliata Arriva Arriva fino a là Un'altra parte Va fino a qua Un'altra Gira E va fino a qua Quindi questa è la parte Che va invece Nel modo corretto Sempre Ad inganno Giriamo per più parti Ad inganno Andiamo per tre direzioni Quindi questa Vediamo Mo le tiro avanti Ste parti Vabbè qui ci mettiamo Un muro che chiude Dai Così Quindi quella giusta Magari potrei fare Che è questa Questa posso fare Che è quella Che effettivamente Va a finire In qualche modo A giro Va a finire Così Bene Questo è il percorso giusto Allora qui magari Il percorso sbagliato Lo portiamo un po' Da queste parti Poi Qua Sempre Quello sbagliato Che arriva fino a qua Questo è sempre sbagliato E lo portiamo fino a qua Perfetto Teoricamente Il labirinto Già va bene Non è male Così Non è male Questo magari Arriva fino a qua Perfetto Bene Fino a qui ci siamo Adesso dobbiamo riempire Tutti questi buchi Con la terra Bene Ok Ho coperto Tutto Con la terra Adesso Dobbiamo coprire Tutto Con Queste foglie Di betulla Le devo mettere Sopra Alla terra Ed è fatta E dopo di che È fatta Facciamo Altezza 2 Perché Perché a fa foglie di betulla Non è certo semplice Quindi ragazzi Vediamo se Riusciamo a trovare Gli alberi di betulla Da qualche parte Che subito Subito Butto giù E così ne faccio Tante Di ste foglie Mo Vali a trovare Sti alberelli Però Chissà Ah qua Stanno Qua 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 Stanno Gli alberi di betulla Ok Quindi praticamente Io mi metto Qua E prendo Le foglie Me ne servono Tantissime Ok Raga Ho rotto Tre cesoie Ho guardato Un po' Quante belle foglie Che ho raccolto Ovviamente Cesoie Ne posso ancora Fare un bel po' Ma Comunque Adesso Ce ne andiamo Perché sta a fabbuio Ok Allora Tutto l'esterno E' fatto Già vero Qui ci vuole Un blocco Cavolo Ci vuole Un bel blocco Aspetta un attimo Togliamo un attimo Quella lava Togliamo quella Lava Dalla sopra Piuttosto che andare A fare i blocchi Nuovi Vorrei fare Un'altra cosa Allora Qui magari Voglio chiudere In modo diverso Un po' Come Con l'entrata Va bene Poi Facciamo una cosa Un po' Diversa Magari un blocco Lo mettiamo Un'altra cosa Tanto non si vede Ho della lana Mettiamo della lana Qua Tanto la lana Teoricamente Non brucia No? Quindi Calcestruzzo E adesso Torno la sopra Ok Almeno qua Mo' È chiuso Quel blocco Non si vede Quindi va bene Così Allora ragazzi Iniziamo quindi Appiazzare Qua sopra Tutta questa Tutte queste foglie Di betulla Bene ragà Mancano Le ultime foglie Ed è fatta Allora Prima di applicare L'ultima foglia Vi faccio un po' Vedere da qua Guardate un po' Ragazzi Il labirinto È venuto Veramente Bene È venuto Benissimo Allora Andiamo ad applicare L'ultima foglia Poi Qua dentro Ci sta Veramente Bene Sapete cosa? Tipo Due sedie 1 2 3 Eh Sì 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ok Dei sedili Per sedersi Qua dentro All'arrivo No? Che uno arriva stanco Teoricamente Poi E mo come esco Da qua? Aspetta un attimo Fammi usci Da qua Che faccio prima Ok Allora Mettiamo Naturalmente Un cartello Ci scriviamo Labirinto Suggerito Da Oh se no Da lo metto sotto Da Simon Bacci Ok Questo non può mancare Vado a prendere Un altro paio di cartelli Che sistemiamo La questione Là dentro Oddio Va bene Dai proviamo A trovare La strada giusta Ora so bene Che è da questa parte Però guardate Già mi sono perso Già Mi sono Perso Se non sbaglio Era da qua Oddio Forse era da qua O Era da qua Non ricordo No 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 Qui non sbucava Qui non sbucava Difatti O Qui si però Mamma mia Mamma mia Raga Visto È fatto bene Perché A malapena Ricordo qualcosa Figuratevi uno Che arriva per la prima volta Qua Dice ma Da che parte Devo andare Ecco Vedi qua Non sbuca Oh sta pure Fa buio Ma Proprio Nick Ok Ci siamo No Muro Oddio Oh l'ho trovato Va bene Dai Non è difficilissimo Però va bene Comunque È fatto bene Ma uno Un pochettino Si perde Poi non è grande È un po' È poco largo Il labirinto Fosse stato Molto più largo Era molto Più semplice Perdersi A quel punto Due belle torce Messe qua Giusto per Illuminare un po' Eccoli il labirinto Raga È bellissimo Ma è bellissimo Wow raga Devo dire che Non pensavo Veniva fuori Così bello È stupendo Raga È un vero Labirinto È un labirinto È bellissimo Raga Wow Mi piace tanto Grazie per questo Suggerimento Ci sta veramente Bene Il labirinto Ci sta Molto bene Magari poi Do una pulita All'esterno Con quella sabbia Ma Ci sta Alla grande Raga Ci sta Veramente Benissimo Ok raga Concludo qui Questo gameplay Spero tanto Che vi sia piaciuto Ovviamente Se avete qualche altro Suggerimento da darmi Non esitate a commentare Iscrivetevi Lasciate un bel Mi piace Magari condividete Pure il video Se vi va Ragazzi Io vi saluto Ciao Alla prossima